Lo Zanshin Tech è un'arte marziale vera e propria che fonde quelli che sono gli insegnamenti tradizionali delle arti marziali, il rispetto dell'altro, la serenità, la tranquillità, l'accettare l'attacco, lasciarlo passare e mettere al tappeto ovviamente l'aggressore, con quelle che sono tecniche di cyber security, tracciare un numero di telefono per scoprire se sto parlando con la persona giusta oppure se sto parlando con una falsa identità, scoprire dati su internet, scoprire cose che altre persone postano di me. Insomma tutta una serie di tecniche, se vogliamo un po' hacker ma assolutamente legali, che permettono di gestire la propria identità digitale e di diventare guerrieri digitali, sereni, consapevoli e sicuri. Ad oggi sono attive tre palestre a Genova, una palestra a Pavia, ma ci sono più di 40 persone che stanno studiando in giro per l'Italia, e ci sono più di 20 città in Italia che si stanno preparando ad aprire palestre di Zanchintec.